Questo cartello dice che l'area è video sorvegliata e allora coloro che hanno provocato questo danno saranno stati individuati e saranno stati individuati gli autori di quest'altro danno, quest'altro pilastro che è stato distrutto, danneggiato dalle solite mani ignote, dai soliti anonimi che la videosorveglianza dovrebbe individuare, ma a proposito dov'è la videosorveglianza?